Presidente, sulla ZES, Confindustria ha lanciato l'allarme, però la buona notizia è che le sei opere ZES sono state inserite nella stessa strada, quindi le risorse sono al sicuro e voi potreste essere anche stessa un appaltante. Infatti tutto questo allarmismo lo ritengo anche fondamentalmente infondato, peraltro strumentalizzando le parole del direttore di Confindustria si mettono a parlare di ZES e quelli che hanno fatto un disastro, quelli che stanno difendendo l'indifendibile, come si fa a sostenere che la ZES che copre l'intero territorio della regione Abruzzo è più svantaggiosa rispetto a una che copriva soltanto 1700 ettari, non so se qualcuno è nostalgico dei perimetri stretti e magari del potere discrezionale che ha utilizzato nel passato per decidere chi potesse avere questo privilegio di essere in area ZES e chi invece no e quindi stava fuori. Noi passiamo invece oggi tutto l'Abruzzo è territorio aperto agli investimenti e si stanno moltiplicando questi investimenti. C'erano delle paure sul rispetto dei tempi per i fondi PNRR per queste sei opere, sono stati fugati dal buon lavoro del Ministro Fitto che la regione ha accompagnato silenziosamente senza fare gli strepiti che qualcuno richiede e rivendica, quindi nella cabina di regia del PNRR che è stato fatto a Palazzo Ghigi è stato verificato il raggiungimento di questi obiettivi e quindi le sei opere vanno avanti, stiamo lavorando con il governo per individuare la stazione appaltante e la regione è assolutamente a disposizione per sostituirsi alla vecchia ZES Abruzzo ormai disciolta nella ZES Unica, quale stazione appaltante più vicina al territorio per poter seguire questi lavori. Oggi è stato prorogato al 31 dicembre il bonus su della decontribuzione, questo era un aspetto che dipendeva dalla Commissione europea e non dal governo nazionale che però ringrazio perché ha fatto fino in fondo il suo lavoro di negoziato con l'Europa per ottenere altri sei mesi di prolungamento di questa misura che era necessariamente temporanea e prorogata di anno in anno perché legata a una condizione eccezionale che era quella del temporary framework dovuto al Covid tant'è che da qui al 31 dicembre il governo con l'Europa è al lavoro per individuare delle misure strutturali che riguardino il Sud e uscire da questa anche incertezza che genera tensione. Sul resto appunto stiamo lavorando, il confronto con le categorie è utile e costruttivo anche per capire cosa si può migliorare ma respingo decisamente il romanzo nero che è stato dipinto sulla ZES Abruzzo perché la ZES è un grande strumento a servizio del Sud e per dire l'ultima la differenza tra l'Abruzzo e le altre regioni del Sud esisteva anche con il vecchio sistema ZES che l'Abruzzo non fosse un obiettivo 1 e abbia quindi delle agevolazioni inferiori a quelle delle altre regioni del Sud e la scoperta dell'acqua calda era una condizione se la vogliamo chiamare così di svantaggio competitivo rispetto al Sud che esisteva pure prima e quindi non è cambiato nulla, è cambiato in meglio però ripeto che l'intero territorio della regione Abruzzo è oggi aperto agli investimenti e agli insediamenti ZES e alla possibilità di godere di questi sgravi. Attendiamo quando saranno scaduti termine adesso a luglio per l'attribuzione di questi contributi e così vedremo poi nel concreto quanto sarà stato attinto dall'Abruzzo in occasione sui fondi relativi alla ZES.